Ciao a tutti ragazzi, sono Zombivest qui quest'oggi, questo nuovo video Zombies des Bonoshima insieme al signor ZNSG Ciao a tutti ragazzi, prima partita per me, io non conosco davvero nulla, nulla della mappa Invece il signor ZNSG ne ha fatto una prima perché ha finito di scaricarla prima di me e ha fatto tempo a finirla e a morire miseramente per venire a giocare insieme al giocatore forte, giusto? Sì, 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 adesso cercheremo di scoprire il più possibile, comunque io non so ancora nulla di questa mappa, quindi siamo... Sì, diciamo che siamo un po' in difficoltà, io vedo già Rick Toffin che ha una bella arma in mano, che arma è quello? Che cazzo è quello? Tra l'altro manca Takeo È vero, manca Takeo in questa schervata? Sì, sì Ok, è vero, questa è un'altra cosa Che cosa? No, Takeo è a destra No, guarda la faccia Oddio 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 Ma non si vedeva, eh Non si vedeva, non si vedeva Oddio Oddio Oddio, no, ti giuro, non ci ho fatto caso neanch'io, non ci ho fatto caso Oddio Oddio Ok ragazzi, ok Schermata in caricamento è già molto bella, artisticamente bella Eh Salve Zain Oddio, salve Ho trovato un paone d'argento Allora, io vedo qua, io vedo qui Intanto l'acqua possiamo notare Ok Mio Dio Ci sono anche i pesci? No, non ci sono i pesci No Niente pesci ragazzi Guarda ci sono i secchielli Dove sono i secchielli? Eh, ce l'abbiamo già mi sembra Oppure mi sembra che si prende qua in Fertrun da qualche parte Bisogna prendere schierola Aspetta, io direi intanto di concentrarsi un secondo nell'uccidere gli zombie Che altrimenti Infatti i più punti possibili Perché bisogna fare tanti tanti punti In questa mappa, ecco, io ti frego gli zombie, ok? Ma comunque, sì, 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 vai, vai Vai, vai, tranquillo Allora Intanto qui c'è anche un aereo distrutto tipo Sì, 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 sì Che cosa ci fa un aereo qui? Tipo, proprio un aereo Guarda, 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 guarda in alto Dove? Guarda in alto Oh, cazzo, sì, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto È una figata Oh, oh, il jack, il jack Come il jack? Hai visto? Ha lasciato L'aereo che è passato, ha rilasciato La bibita E ho visto il jack scendere di là col paracadute Ti giuro Ti giuro Oh mio Dio Forse che almeno da partita partita Forse spawnano tipo come su Nuketown Sai che scendevano tipo come meteoriti Ma ora, infatti, ti dico, perché ora provo ad aprire sta porta Se qua non c'è il quickrevaio Perché nella mia partita qua c'è il quickrevaio Eh, ma forse il quickrevaio è tipo Eh, beh, ma forse il singolo te lo mettono sempre lì Sai come tipo Nuketown, no? E forse gli altri perk spawnano ogni round Ogni tot round Come succedeva su Nuketown E qui? Era qua il perk Vedi? Vedi che spawnano come su Nuketown Occhio dietro, occhio dietro Nooo Occhio dietro Che figata Un insta kill lì Guarda che una figata Ecco perché non trovavo il juggerna Sì, sì È difficile se è così, eh Sai come su Nuketown Diventa difficile poi Metti che sfiga con lo spawn dei perco Oh mio Dio ragazzi È una figata È una figata Oh mio Dio Qua c'è una bomba La prendo Chi è che non c'è specializzato È costo da tu Sì, ascolta Cosa potremmo fare? Allora qua vedo Qua vedo una porta da 750 Ah io direi di andare dove c'è la cassa Che è meglio Ok la cassa è di qua Dove cassa è la cassa? Ok di qua Allora apri qua Apri tu dai la prima Andiamo avanti Andiamo avanti Qua vedo luci sui muri Boh Ma è un cesso il faro Ma va Sì fa schifo Vincere i colpi subito Ma Se è un muro Possiamo sempre ricercare le munizioni Io ho fatto cassa intanto ragazzi Razorback dai Razorback non c'era il suo zombie Te lo dico Ah no? Eh no? Oh cazzo Ed è anche forte te lo dico Vabbè a parte che siamo a round 3 Ok giusto è round 3 Cosa hai trovato di bello? Aspetta io non butterei tutti i punti in cassa però eh Eh infatti devo prendermi il faro cazzo Comunque ti dico il boss è veramente forte C'è anche un boss E questo cos'è? 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 Eh prendilo 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 Allora in poche parole vieni qua Questo qua l'ho capito Vieni qua Ok vedo su a sinistra infatti che ci sono comparsi tipo i simboli Devi piantare la piantina qua Mi era comparso qualcosa ma adesso non c'è più Devi piantare la piantina Eccolo qua Premi quadrato per piantare un seme Vai pianta Ho piantato ho piantato Ora prima o poi crescerai tipo si aprirà come su shadow Sto attento dietro Tipo tipo come gli ovuli lì che vai a aprirli col Sì 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 Ah 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 Uh e si è Raccogliere E si è Oh oh le emmo Perfetto La pistola mi ha dato E qua? Che cazzo è sta roba invece? Eh non lo so Però da quel che ho capito Perché c'ha i stessi simboli dei teschi È vero è vero è vero Ci sono i teschi da una parte E quindi c'ha i stessi simboli Ci sono gli stessi simboli Che 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 fai quando devi prendere le spade su shadows Ah sì è vero è vero Quelli lì delle spade sono uguali a quelle C'è quando devi fare il giro col 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 coso Ecco esatto identici Oh mio dio ragazzi Ok Bella comunque sembrerebbe Molto Fa molto Shangri-La Misto Terri-Sendrach Misto E qui che cazzo C'è luci per terra Luci verdi C'erano per l'atmosfera Sì le luci verdi No Sì sì Ho rischiato un attimo di morire Il mio gameplay ci sparavo a casa Ma non succedeva nulla Non succedeva niente Invece quelle di colore arancione Se ci spari Diciamo che rischi di morire Ah Oh qua ho trovato un altro pezzo Per piantare la pianta La ripianto Vai vai pianto pianto Eh ma non posso C'è la radice qua Non si può più piantare mi sa Ah no è sparita la radice Ok bisogna aspettare anche un round Che sparisce la radice Un'altra cosa Zane Qui vedo che c'è questa Che penso sia tipo una trappola Prima devi attivare l'energia Non Penso che sia una trappola Non lo so Cosa facciamo Apriamo da qualche parte Andiamo a scoprire questa macchina Sì andiamoli qua Sì perché poi dobbiamo anche trovare il Juggerna Sì hai detto che il Juggerna Premi quadrato per Ah cioè prima devi attivare l'energia Ok Per il pezzo Ho trovato un pezzo Quale pezzo Ho trovato un pezzo Aspetta 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 Che ci sono gli zombie Cudo Non so dove cazzo era Ah mi sembra che era la maschera antigas Lì l'avevo trovata Sì Sì era la maschera antigas Sì l'avevo trovata anch'io Nella mia partita Sì perfetto Perfetto Io ho trovato anche uno del KT4 Ah per Che cosa L'arma L'arma quella speciale Giusto la Wonder Weapon Il KT4 Oh mio dio Vengo da te Apriamo di là Vai 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 Vieni qua Andiamo alla scoperta Qua ci sono scritte che tipo Ha Qua ci sono indicazioni Fatti i punti ora Perché ci sono più punti Mi sa Sì Aspetta Che è meglio se andiamo di qua Vieni qua Che c'era il teschio Ah ok Che forse con quello Sblocchiamo la Wonder Weapon Ok Ok Oh oh Le Cablecam Sì Oh sta tossendo il mio personaggio Perché sta tossendo Eh perché Vedi questa nube Arancione Ok non c'è più Però comunque quando vedi una nube Non ci devi andare Ah ok Tipo LOL Sto strappando le ragnatele Vai 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 LOL LOL Ok perfetto Quindi devi liberare proprio il contatore Del Tanta roba ragazzi Tanta roba Oh c'è il Joker C'è il Jug Sì e io ho anche capito come attivare la corrente Ma che culo che hai avuto però in sta parte Allora spiegamelo Abbiamo il Jug qui Ragazzi potrebbe venire fuori già round tipo 100 più Sì 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 vero Ok Devi aprire di qua te Te devi aprire di qua Ok Ok ci sono ci sono E poi io devo cercare un secchiello Oh è grande comunque abbastanza Sì sì Conta che poi puoi andare anche di là Vedi E poi ci sono gli sotterranei I sotterranei o cazzo Sì sì vai apri 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 Allora apro sta porta ok Allora per attivare la corrente devi andare con il secchiello riempito d'acqua E appoggiarlo qua Ah è tipo generatore Ok il generatore serve acqua contaminata Quindi ci serve il secchiello intanto Il secchiello non l'ho trovato Non mi sa che era in fioratura Perché l'ho trovato prima in qualche modo Allora vediamo un po' Qua c'è una mappa Bunker Laboratorio B Laboratorio A Porto Generatore Infatti URR Ok noi siamo qui Un miglio enorme Perché la correttaminata si trova qua Dove sono ora io Solamente che il secchiello non la puoi prendere Aspetta che c'ho lo zombie dietro Che qua mi buttano a terra E sono già rosso Mi tirano continuamente due manate Ok Eccomi qua Ci sono ci sono Allora mostra dove avevi trovato Allora l'acqua contaminata L'acqua contaminata è qua Dove c'è l'elemento 115 Guarda che figata È quello di Shiroba Sì 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 Tipo quello di Origins qua Più che Shiro Nume Sì Con Shiro Nume sembra un po' più rosso Sì era sul rosso Ok qua c'è il sono Premi quadrato per il pezzo Quale pezzo? Ho trovato con pezzo Cos'era? Oddio La maschera La maschera della maschera Grande Grande Ok 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 Qui c'è Sto nuotando C'è acqua C'ho lo zombie Però scappa scappa Lo zombie anche nuota Lo zombie corre sott'acqua e basta Ok Allora io ora direi di Qual è il piano? What's the plan Mr. Zane SG? Allora qua c'è un ovulo rosso Che però mi hai detto di non sparare Giusto? No perché se no ti fai male Devi avere la maschera anti gas Ma non ho ancora capito cosa serve Eh penso per questi problemi di gas E questo sarà roba easter egg Guardate ragazzi L'easter egg qui sarà un qualcosa di incredibile secondo me Vieni qua ad aprire questa porta Abbiamo il jug ma non possiamo prenderlo Perché non abbiamo ancora attivato la corrente Qua cosa c'è? Allora vedi questi simboli qua De ogni teschio Premi quadrato per il teschio Vedi che sono dei simboli? Sì sì vedo dei simboli sotto Secondo me dobbiamo prendere il teschio E metterlo nella rispettiva bacinella Può essere? Con il rispettivo simbolo Sì 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 Infatti è quello lì Mi sa che è questa vero? Adesso vado là Non lo so io adesso vado là dove eravamo prima Sì Peta me lo ricordo quello che era in first room Era Ah te lo ricordo? Questo qui mi sembra No aspetta No non c'era Non c'è quello che era in first room Ok qua ce n'è uno Ci sono due lignette E la freccia normale E la freccia normale Sto arrivando col teschio Sto arrivando col teschio Vai Arrivo eh Vediamo se hai preso quello Oh mio dio ragazzi Lignette tipo verticali Con la frecetta verticale Sì bravo Bravo Allora dov'è che è sta roba qua giù no? Ti intiro zombie Ti intiro zombie che voglio vedere cosa succede Vai Dov'è che era? Lì È quel coso Dove? Quello Ah ok perfetto Sì sono abbastanza cieco Ok provo eh Oddio L'ho posizionato L'ho posizionato L'ho posizionato Zombie zombie Aspetta lascane uno Lascane uno Eccolo Abbiamo ucciso lo zombie sbagliato mi sa Sono intossicato Scappa scappa Dalla scappa Aspetta aspetta Sì sì tranquillo Oh stiamo facendo tipo un'evocazione Occhio che spawnano anche gli zombie del round però E' attento Dei cani Hai capito Hai capito Ci sono i ragni immagino vero Vedo ragnate ovunque Ok 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 un attimo Sono anche scarsi Non sono così OP Ah ok Però In mezzo round hanno fastidio Perché dopo arriveranno anche in mezzo round Oh cazzo Oh cazzo Ok ok Allora Un attimo Oh mio dio Stiamo facendo tanta roba Nella prima partita Sti cosi Sì sì abbiamo già scoperto cose assurde Poi prendere il teschio Vai 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 zombie Posso prenderlo? Vai Ok l'ho preso è verde adesso è verde Vuol dire che abbiamo completato Madonna sti ragni Penso per chi era È verde? Pobico povero Sì sì mi è venuto fuori il simbolo verde Quindi abbiamo completato il teschio Il primo teschio Lo sceva no non mi serve Vieni qua Vediamo se ora lo posizioni Ti succede qualcosa Aspetta che torno Aspetta che torno Poi dovremmo fare anche gli altri Dobbiamo trovare le altre piattaforme Ok fammi vedere il simbolo Che così vado a prenderlo L'olio è un XM Due trecce Aspetta Prendo le Dov'è che è? È in first room Adesso lo prendo anch'io Un in first room Eccolo qua Ok Sì le due freccette Mi ricordo che c'era questa infatti Me lo ricordo benissimo Sì preso Bene bene Vieni a metterlo Vieni a metterlo Vieni a metterlo che ti copro E poi mi sa che dobbiamo fare anche gli altri due Ma non è che il secchio ce lo dà Quando facciamo tutte le voce Ah no Saranno per il paga punch le vocazioni Di sicuro Saranno per il paga punch? Se l'hanno fatta Come l'hanno fatta su shadows Secondo me sì Vediamo Vai mettilo Mettilo Messo messo Ok vedi che è rosso adesso No io no Ah sì 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 Tipo di skin Attento di non morire Spawnano da dietro Occhio eh Occhio Sott'acqua Sott'acqua è brutto Perché non li vedi Ok Quando sono sott'acqua Occhio che in acqua ce ne sono Un sacco Ok Ma tipo loro vanno ad attaccare il teschio eh Oh oh Eh oh M'hanno chiuso male qua Eh aspetta Tranquillo tranquillo È solo il 7 È solo il 7 È solo il 7 Oh stanno e spawnano eh Ti prendo le ammo Ma ne hai bisogno? Sì 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 Te le prendo subito Aspetta aspetta Ok ecco te le qua Ok Gira un po' Gira un po' Vai a girare in un punto largo Dobbiamo tenerne uno però E lasciane uno Cavolo Se riesci a tirarmi su Sì No Qua c'è un bel po' di casino Devi ucciderne Eh lo so Mitra E spara tutto quello che hai No io c'ho il faro ma Eh il faro è una merda Io te l'ho detto che fa schifo Sì eh lo so però Vai torna torna Ora 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 Dai No no Sì 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 perfetto bravo 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 Ok ok Un attimo Scusa per la mia Il teschio Il teschio guarda com'è Sparito vero Eh non ce l'abbiamo fatta Eh mi sa anche a me Gli zombie Sì 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 è vero Infatti io vedevo gli zombie Che andavano lì E colpivano il teschio tipo Premi quadrato Per piantare un seme Ok Vai Io pianto ma Dove ti pesa alchimica io Vabbè Dobbiamo andarcene E trovare subito Il secchio Io non mi ricordo Perché si trova il secchio Vabbè Eh bisogna cercarlo un po' Abbiamo trovato dei pezzi Dai che salterà fuori Anche lui spero Spariamo E sta mappa comunque Un po' buia Tipo stile dei giant Io la vedo un po' buia Non so se sembra a me Ma Sì 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 Ehm No ci sono i ranni Ci sono i ranni qua Eh no eh Eh no eh Che cosa è successo No Ma fanno un male Oh qua c'è un pezzo No Non so che cosa ho fatto Io non so dove sto andando Mi sono un po' perso Sto andando avanti Mi sono perso Io te lo dico Ehm Sono tipo arrivato Dove cazzo sono Sono No ho trovato il secchio Ho trovato il secchio Dove cazzo morire Sì Dove era il secchio Eh aspetta 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 Tipo vicino alla first room Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherziamo Arrivo Arrivo sto aprendo porte Che non so dove mi conducono Ma mi serve un'arma a muro buona Mi ricordo che da qualche parte C'era l'M8 E sono anche in zona Se non mi sbaglio Io mi sono perso Sto aprendo porte Perché mi sono perso Il culo è tanta roba Il culo è tanta roba Quella roba Scappo Scappo da dove sono venuto Ok Dico solo che non muore Scappo da dove sono venuto Io torno Vado via Io ti lascio solo con lui Finisci tu Ma perché stai venendo da me No non stai venendo da me Non so dove sono E' qua da me il boss E' morto Sì Aveva poca vita rimasta Sì sì Aveva solo un occhio tipo Perché hanno gli occhi Cioè mi sa che anche questo Spari agli occhi Hai capito Sì Vabbè allora Io ho trovato il teschio Vieni qua che te lo faccio vedere Aspetta aspetta Arrivo 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 Lascia uno zombie Lascia uno zombie Di qua ce n'è uno Perfetto 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 Vai 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 Eccomi qua eccomi qua Oh mio dio ragazzi Che roba Subito alla prima partita Così tutta sta roba Ok Ok Qui Allora Il teschio era Qua Eccole questo qua Dovrai cercare un coso così anche te Dopo prendo io Ah il secchio Ok prendi tu questo Vai portiamo l'acqua Allora questa qua è la prima acqua Questa qua è la prima Sì vai E me lo ricordo Come fai a riempirlo? Ah lo fa da solo Quadrato Quadrato ok ok Ora devi salire qua sopra Questa è l'unica cosa che ho scoperto Tutti nella mia partita Sì 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 qua sali qui Vai dentro qui Qua c'è un altro C'è un altro Uh che culo Guarda qua Guarda qua si si vedono abbastanza infatti Sì Ok Allora adesso questo qua è il primo generatore Vai Ah ce ne sono due quindi Eh vai tu perché io non ho riempito il secchio Sì vai vieni L'hai riempito? Sì Ah sì sì vero Guarda che fa l'animazione Che figata Ha attivato la corrente Vediamo dove è il jugger? Dov'era il jugger? Che non mi ricordo Eh tipo vicino alla prima porta che abbiamo aperto Io mi stavo perdendo a manetta Non so dove mi trovo però va bene Io mi sto straperdendo in questa mappa In questa mappa qui Ecco ecco vedi 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 che qua c'è scritto C'è un coso verde e uno rosso Sì perché ne manca ancora uno Sì vieni Il secondo che si troverà nell'altro laboratorio immagino Sì che la devi prendere quella della fogna Che è questa qua Adesso ti faccio vedere Vieni 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 Ecco questa qua Questa Sì ok perfetto Aspetta che lo riempio Quadrato per riempire il secchio Perfetto Vai E su da quelle scale di là immagino vero Sì Aspetta che stanno scrivendo su telegram Chiudo telegram Sennò si sentono i suoni delle notifiche Ok Sul pc Perfetto Eccomi qua Andiamo 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 Salgo 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 E dove cazzo Rola è? Questo eccolo qua Premi quadrato per azionare l'interruttore Qua ce n'è un altro il secchio raga Eh ma siamo in due Non ci serve quindi No vabbè per far vedere comunque Però è qua Sì sì è qua vicino È proprio vicino Li mettono vicini anche i generatori Si è notato Anche l'altro è vicino i generatori Ok perfetto Qua ti puoi far scendere questa cosa Che non ho capito che cosa serve Farla scendere Però va bene Scopriremo anche quello Ok Ok Adesso Andiamo di qua Adesso 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 C'è il jogger che è attivo Solamente che non mi ricordo dove Adesso lo ricordi Sì era tipo all'inizio Quindi direi di andare Guardate ci sono i giammi Ci sono i giammi qua subito Le avevi già aperte questa Guarda che bastardi Guarda lì là Guarda lì là Ok Ok non andare là C'è il boss C'è il boss C'è il boss C'è il boss Scappa scappa Via 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 Dove è il jogger? Che è ora che ti va al corrente Aspetta andiamo tipo dove è l'inizio Torniamo allo spawn E rifacciamo la strada dallo spawn Io dallo spawn mica me lo ricordo Qua giù lo spawn Qua a sinistra tipo Qua a sinistra avevamo aperto la porta Qua a sinistra Sì qui 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 a sinistra c'è la porta Guarda qua 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 E il jogger è tipo qua davanti No spero Sì eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì Trovato Prendi 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 Prendo Ok ragazzi abbiamo il jog Nella mia prima partita Attenzione Il boss è respirato qua Ah Ci pensi No tranquillo tranquillo Ti do una mano da dietro Guarda gli ho già fatto saltare un occhio Abbiamo il jogger a sto giro Sì sì adesso adesso morire è difficile Adesso muore lui Ok Bisogna stare attenti A sto gas È pericoloso senza la maschera Io adesso ho preso l'altro teschio Devo farmi una cassa Perché sono senza colpi Un attimo Che se no Se metti lì il teschio Cioè puoi fare da solo se vuoi Ma non so Forse è meglio se mi aspetti Per sicurezza Che se spawnano troppi zombie Aspetta un attimo Ok sto iniziando un attimo A capire come è fatta la mappa Sì sì anch'io Piano piano No guarda che per la prima partita È tanta roba Sì sì stiamo facendo un devasto Non ho punti Oh cazzo Gigi Oh oh Vado io Oh oh Se troviamo le scimmie Ho la regna e tanta roba Eh io non ho più colpi però eh Oh brecci Io non ho più colpi eh Vai ci penso io Aspetta fammi Ok va bene Tengo io Io vado a fare il rituale Sì ma io ho solo la pistola iniziale Eh dopo ripara Fai qualcosa Aspetta Sì poi giro un po' Sporo un po' di colpi Tiro qualche granata E mi faccio una vecina Vai Sto facendo il rituale del teschio raga Vai 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 Sto facendo il teschio Ma Io sto un po' distante Ti guardo da qua su io Dalla lontananza Ah qua c'è un altro secchio Qua lo spawn Eccolo qua un altro secchio Dopo me lo fai vedere Che lo faccio vedere nel video Che sto anche io registrando Ah sta registrando anche te Sì per poi farci dei più plays Perfetto Perfetto Vai 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 Ok Ok Ci siamo Eh qua Stiamo attenti Cazzo Come va? Eh Sti rangi sono pericolosi Ce li ho anche io dietro E lo zombie corre anche Tanto per No ma sti rangi sono bastardi Oh ma da dove iscono Cioè Che cazzo Ok Ok ho fatto Ok hai fatto Prendi il teschio Prendi il teschio Ora è bianco vero? Sì sì ti viene tipo Quando lo prendi verde In alta sinistra No Vabbè Non importa Vai a piazzarlo Vado a piazzarlo Aspetta non era di qua Era qua a sinistra Sì sì l'ho piazzato io Me l'ha fatto piazzare Qua comunque ci dovrebbe essere un pezzo Secondo me Eh la maschera Dobbiamo trovare l'ultimo pezzo Qua c'è un pezzo Te l'ho detto No È ricostruire la barriera No Ci ho creduto Ok ok Ci ho creduto Vabbè andiamo di qua Perché il giac sembra spento tipo? Perché si è spenta la corrente Perché si è spenta la corrente? Oddio non sta a dirmi che dobbiamo ogni volta andare a riempire i secchi L'ho attivato L'ho attivato Cioè ogni volta dobbiamo andare a riempire i secchi Quindi noi Sì ogni volta Oh cazzo Oh cazzo Questo è un problema lo sai? Sì Ok adesso allora ascolta un attimo Facciamo anche gli altri due teschi Andiamo a cercare altre cose subito Vai prendi Te l'hai pogginato il tuo No non l'hai ancora messo No vado a farmi una cassa a 1250 punti Penso perché hai fatto Metti il tuo teschio Aspetta metti il tuo teschio No l'ho già messo il mio L'ho già messo Io non lo vedo Ah no non l'ho messo Te lo vedi quel teschio? Ah no non l'avevo messo Eh infatti Adesso l'ho messo Vedi che va giù tipo pesa sul meccanismo Sì Figo figo Ne mancano due Prendi l'altro Prendi l'altro E poi così Un attimo che vado a farmi una cassa No aspetta non prenderlo Se no li scambiamo A parte che ti viene scritto in basso a destra Ma non vorrei che li scambiamo dopo Cioè aspetta un attimo È vero in basso a destra c'è scritto anche il disegnino Sì Ti disegno anche dei simboli dove va Sì 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 perfetto Faccio un attimo una cassa che vedo Ah qua c'è un'altra di Ah no questa è quella che abbiamo fatto prima Allora Dov'è un'altra pedana per fare l'evocazione? Che tu sappia Eh non lo so Io l'ho scoperto solo ora Adesso vediamo Allora KN44 Perfetto Oddio Perfetto Questa è la partita ragazzi È la partita La partita? La prima partita? Full gameplay ragazzi Full gameplay Cioè secondo me arrivano le 13 Che siamo ancora qua Dobbiamo andare in live da round 40 tipo Sarebbe tanta roba eh Eh sì sì Ok Partiamo qua in live Sì sì partiamo già in live così Dal 40 Senti ragazzi sono zombie vesti in live Sì Ok Vabbè Allora Poi Jimbo ci farà accompagnare insieme a Mike Esatto Allora 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 salve Dobbiamo trovare Tu hai già preso il teschio Sì vieni qua Io so bene o male Com'è che Dov'è che dobbiamo andare Però è tosto È tosto Devo prendere anche l'altro teschio io comunque Eh vado a prendere Infatti l'ho detto Eh sì ma mi son perso adesso cazzo Vieni qua Ma Sei pronto? Sì ma io non ho il teschio Vabbè andiamo È tosta qua Te lo dico È tosta Andiamo È tosta Non fa essere tosta Siamo a rondotto Ok C'è un cazzo Io prima sono morto Prima qua Una volta Qua è che questa cosa non va bene Ah qua c'è una porta mi sembra No No non c'è niente Ci sono dei pezzi strani Sto Sto guardando Secondo me qua c'è l'ultimo pezzo della maschera Tipo qualcosa di simile Può essere Vediamo un attimo che cosa Sì Ah Devo rimuovere le macerie qui eh Vai rimuovi Ah è vero Non ho punti Non ho punti Non ho punti Tanto quella non servono Le avevo rimaste anch'io Vieni qua Vieni qua Ah ok Dove sei? Tipo ti fanno saltare di sotto Da là Cosa fai? Sì ti fanno scendere Sì a me mi sta laggando un po' la partita Ma per a scatti Non è la connessione Ah Lol Eh boh Sarà Le texture che carica Ok qua siamo in un'altra zona Servono altri pezzi Qua c'è il pacapancio Dov'è il pacapancio? Qua sotto C'è un pezzo C'è un pezzo C'è un pezzo Qua c'è una porta da 1500 C'erano altri pezzi Eh no infatti Su queste manopole qui tipo Servono altri pezzi Dov'è anche a me Quante sono? Ci sono 4 Mi sa che perché 1 Premi il quadrato Per aspetta 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 E' venuto fuori scritto qualcosa qua eh Aprire la porta 1500 Non abbiamo punti per fare un cazzo Ma vai dire di uccidere E andare avanti con il round? Sì sì Dobbiamo farci un po' di punti Ok qua sotto non è un bel posto Però io me ne andrei Cioè Non so Dici che sia un bel posto? Stare qua No 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 Infatti sono morto qua E' un posto di merda qui eh Sì Allora andiamoci Dove andare dritto Che andiamo all'aperto almeno Vai 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 Ok oh Un bozzo Lo vediamo cosa c'è Andiamo Possono uscire anche zombie XM53 Ok niente Ok niente Occhio che arrivano gli zombie Sì Io quella verde Così dopo siamo già organizzati Ok adesso però non so dove cazzo devo andare Di acqua Il coso che dovrebbe essere qua in giro Allora l'ultimo teschio che manca da prendere è questo Io ho aperto una porta strana Ok Qua c'è un generatore rosso che manca Come se ne avessimo fatto solamente tre E questo qua Per la corrente Qua c'è la corrente Ma abbiamo già attivato la corrente No papà c'è la corrente quella di classica Ah sì? Sì solamente che tipo ci sono quattro lampadine E la numero tre lampeggia di rosso Come se non avessimo fatto ancora qualcosa Ah Allora Ah oh money Sono morto sono morto No invece Come sono morto Se morivo poi come mi trovavi Sì appunto io non so esattamente Non so neanche dove sono io Pensa a trovare te Quale sarebbe stato un casino Sì Ok sono no Io sono arrivato col secchio dalle fogne Perché sono un imbecille E quindi siccome sono qui Vai tu dalla cosa blu ok Hai preso le fogne te? Sì ho preso le fogne perché Quelle verdi? Sì quelle verdi perché sono capitato qua Mi son perso Vabbè allora adesso vado di là Quindi tu vai di là Insta kill Comunque ora non ci serve Adesso non ci serve Meglio fare un altro round Perché ci devono fare un po' più punti Sì 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 è vero Non ci diamo vai 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 No mazzo mazzo Oh qua puoi andare anche sott'acqua Dentro questa specie di cunicolo No 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 È da lì e da lì escono Escondi zombie mi sa Quelle scale lì invece Queste scale qui mi intrigano Vediamo dove portano Ah qua su c'è il C'è la double tap Sotto forma di ragnatela Questa mi sa che non è caduta È caduta però devi aprirla Ah l'ho aperta L'ho aperta L'ho spacchettata Adesso facciamo il video Spacchettamento di Db the code zombies Se vieni qua Dovresti aprire una porta Dove Dov'è che ti trovi tu? Eh guarda tipo Ok ok sì ho visto Sto Sto arrivando 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 Allora ragazzi salve Convintissima sta mappa Prima partita Ricordiamo Questo gameplay Lo vedrete probabilmente In parte anche Nei giorni successivi Però Sempre prima partita E tenetene conto Cioè se ci sono cose Che non sappiamo È perché è la prima volta Che giochiamo Vedi Dove? Ah Ah è vero E che cazzo sarà Forse è la zona Ad aprire tipo Prima devi sblocare Le turbine sott'acqua Io prima Andavo quasi sbloccata una Vieni qua Apri quella porta Ma qua si può andare Sott'acqua Guarda Come Qua si può andare Sott'acqua Guarda guarda Eh non morire Torna indietro Ci andiamo a turni Ci andiamo a turni Perché io prima ci sono morto Ah bene Aspetta un attimo No torna indietro Torna indietro Che ti manca il respiro Muori subito Sì ma non so come Ok tranquillo 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 Ma ci sono gli spot Dove puoi prendere aria Ah si? Sì 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 Vai vieni qua Tipo se tu vai su Ti entriamo zombie Vai Io tra l'altro là sotto Ho preso anche un pezzo Della KT4 Ecco guarda Se c'è anche la maschera Che ci farebbe un po' comodo Costruire la maschera Nella nostra Prima partita Eh sì Ok Ok Guarda che sto tornando sopra Vai vai Comunque si c'è Ho capito come sono gli spot Per respirare Esatto c'è gli spot Per respirare Quindi ero là molto shallow A dirti la verità Ah Cioè più che altro Non riuscivo a reimmergermi Perché mi ero un attimo Incasinato con i tasti Ma più o meno ero Shallow diciamo Sì 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 Mi starebbe un casino Trovarlo Perché adesso Non abbiamo ancora Trotto niente Comunque si si chiama Power Room Questa E in effetti È la stanza della corrente Dove di attivare La turbina 3 Ma c'è una turbina Però boh Come funziona Se trovi le turbine 3 Riesci a sbloccarla Ma non so come si sblocchi Di attività Eh sono qua sotto Ma sto nuotando Ma Non c'è niente Ragnatela C'è la ragnatela Aspetta che scavo Ho trovato una ragnatela Ok ok Io ti guardo da fuori Ho attivato la turbina Mi ha bloccato Come mi ha bloccato Sì ti giuro che sono bloccato qua No la turbina Lampeggia ancora di rosso qua No non posso salire Sta salendo l'acqua Sto morendo No dovevi uscire più veloce Ma dai ma che morte di merda Ma ci sono zombie qua Cosa? Difenditi 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 Eh non ce la faccio Non ce la faccio È impossibile Ah ok ok Ma quindi è salita Sta salendo l'acqua Eh te l'ho detto Vai via vai via Ora è scesa No aspetta Finché Ok è scesa Ci sono tantissimi zombie Fatti in punti E rianimami Un secondo che La situazione Intanto mi hanno tirato la corrente Mi sa perché io vedo le torbine verdi No ancora Sì sono tutte e tre verde Sì 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 Adesso sì Tutte e quattro Oh oh ho ucciso tutti gli zombie No in realtà hanno lasciato uno Ma il round è passato Quindi ti rianimo tipo Vai 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 Ti prego ti prego ti prego ti prego Perfetto Tipo scappa Scappa che ci sono zombie ovunque Fammi fare un attimo di punti Che mi devo riprendere Ok ok È iniziato il round È iniziato il round È iniziato il round Attiviamo la corrente Attiva la corrente Bravo attivala Attivala L'hai attivata sì Ok ok perfetto 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 Adesso però andiamocene Andiamocene subito Subito Oh mio dio ragazzi Ok arrivano i zombie Perché mi ha attivato la corrente Nella prima parte C'è tanta roba Sì sì Cioè beh di solito Attivare la corrente È la cosa più semplice Ma qui direi di no Oh Zaino ho finito i colpi Eh non sei l'unico Non sei l'unico Tutti è Tutti Cos'è questo Il CUDA Compra il CUDA Io uso antifese alchemica Io uso antifese alchemica Ho comprato il CUDA Ma quindi adesso Non ci servono più i secchi E andare a riempire le cose No perché con la Mi sa che servono comunque Per attivare le porte E fare cose strane Qua c'è il quick Io direi che me lo compro Se permetti Cioè mi sento più sicuro Me lo fa comprare Sì sì me lo fa comprare Mi sa perché abbiamo attivato la corrente Eh io devo prendere il jugger Eh tu sei senza il jugger Un attimo che Abbasso un attimo questa Se no la gente mi vede troppo alto Vai 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 Lavoro la webcam È un attimo troppo alzata forse Per un altro pezzo Qua ci serve una porta da aprire Pianto il semi intanto Ok lascane uno eh Teniamone uno Che abbiamo cose ancora da scoprire Qui a manetta proprio Comunque se il pack a punch Si fa sotto l'acqua Era sotto? Cioè su questa mappa Sì Ah quindi tu hai attivato la turbina Si è alzato il livello dell'acqua E dovevi uscire veloce Quindi non ci hai fatto tempo Cosa è successo? Sì sì no C'erano i zombie Posso andare a fare un giro No a turni A turni è meglio Forse voglio vedere Sta alzando l'acqua eh Come sta alzando l'acqua? È altina l'acqua Ah no è sempre rimasta così Ah era sempre stata così? Ah ok Sembrava me Perfetto Poi vieni fuori Fammi fare un giro Che voglio vedere un attimo com'è Anche se non c'è più nulla ormai lì Però vai fai un giro Sì sì No volevo solo vedere l'ambiente Ok qui è dove hai attivato la turbina Sta roba gialla qua Sì Torna torna Ho rischiato di morire annegato Eh io te lo dico Perfetto Premi quadrato per Per? Per il pezzo Quale pezzo? Non lo so Un attimo che ci muori Io annegato Un secondo eh Vai valla a riprendere Un attimo E qua c'è questo pezzo Attrezzi Eh attrezzi Attrezzi Non lo so Non lo so Penso servano a qualcosa però Se sono qua Ok perfetto Vabbè allora dai lo uccido Arrivo Vai vai uccidilo uccidilo E ci facciamo un po' di punti ancora Undici Oh macchina mortale Qui è dove tu eri Spirato nell'ultima tua partita Giusto? Sì però anche se non lo spoileri No ma sarà già uscito il tuo video Secondo me Ah Eh vabbè Mi sa di sì Vabbè In realtà non lo so Premiari faccio parti da mezz'ora E ti incuro così Eh vabbè Speriamo di no Speriamo di no Ragazzi ho detto una bugia Non sono morto Ok Ok Non sei morto No 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 Infatti era giusto per fare Per dire gente Ma no ma Zane è scarso Invesse 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 No Ok Qua c'è una porta da 1500 Che io aprirei eh E infatti vai apri Eh ma non ho punti Ah Cioè aprila tu Fammi fare puntino Anche il jugger Ecco vai Prendi 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 il jugger Allora apri io Ma io non sapevo che c'erano i giami Sennò potevo anche riuscire a sopravvivere A non morire Eh Ah ma comunque tu lì potevi andare a respirare lo stesso Sì potevo respirare sì Però c'erano i zombie E quindi ti hanno Sì ti hanno fottuto i zombie chiaro Ulemmo grazie Allora io adesso Perfetto Qua si è attivata la corrente Forse Qua c'è un qualcosa Si è attivato Ah Gli attrezzi secondo me servono per sta roba qua Dove dice servono altri pezzi Perché uno Qui servono gli attrezzi Qui su stiafari qui Sì Tieni per denare l'acqua Eh sì Nel senso Guarda ho premuto il quadrato Ed è scesa l'acqua Di un bel po' Già Ah c'è il paga pancia Ma quindi Oh 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 Scusa Scusa E No no tranquillo Quick Quick Ma quindi Una domanda sola Se Drenare l'acqua No zombie No zombie ti prego 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 sta andando benissimo Aspetta Ma no Che cosa sul cazzo è successo Era una granata era una granata No 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 Sono un ragno Che cos'è sta roba Ero un ragno È successo un casino È successo un casino C'era il boss C'era anche il boss Ero io il boss Eri tu il boss Sì ero io il boss Infatti non capivo Ho organizzato qualcosa di strano Poi si è buggato il gioco E' tutto normale Quindi potevi tipo aiutarmi No ti potevo mangiare Stavo andando addosso Non facevo nulla Lo facevo tutto da solo Ma non ci credo Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Beh abbiamo Allora Abbiamo figata Abbiamo attivato la corrente Sì Abbiamo scoperto tutti i pezzi Abbiamo preso I secchielli I secchielli Abbiamo preso due pezzi su tre della maschera Abbiamo trovato le turbine appunto Abbiamo scoperto che per il pagapancio bisogna drenare l'acqua E quindi i teschi a che cazzo servono? I teschi per la wonder weapon Sicuro Ma i pezzi? Anzi no Ci sono i pezzi? No No Sai per cosa secondo me? Per una di quelle armi speciali come la spada Dici tipo roba del genere Sì 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 Perché il teschio alla fine era l'ultimo a destra Come la spada che era l'ultima a destra Come il ragnar È quello Sai che mi sa che è per un'arma bonus quella roba Ragazzi tanta tanta roba questa mappa Probabilmente quando vedrete questo video avremmo già fatto la live Quindi magari avremmo già scoperto qualcosina in più Lasciate comunque un bel like Condividete con i vostri amici Raccontateci nei commenti le vostre esperienze Noi ci sentiamo al prossimo video da Zomi Beste Zensi c'è tutto Ciao ciao La Noi ci sentiamo al prossimo video da Zomi Beste